GRP Giornale Radio Piemonte Anticipiamo il nostro consueto appuntamento con Visit Langhe, Monferrato e Roero e lo facciamo parlandovi di una cosa che secondo me è anche a tema Halloween perché è rosso Barbera, vedi che se uno lo dice così fa anche un po' paura il resto è rosso colore del sangue ma è anche il colore del Barbera e soprattutto è l'evento che dal 3 al 6 di novembre inonderà Costiglio Ledaste ci facciamo raccontare tutto dal primo cittadino sindaco Enrico Cavallero benvenuto su GRP, buongiorno buongiorno a tutti i radiospettatori allora cosa succede al Castello e non solo a Costiglio Ledasti dal 3 al 6 novembre? dal 3 al 6 novembre abbiamo un'edizione speciale di Rosso Barbera che è il più grande banco d'assaggio di vino Barbera mai realizzato e quest'anno possiamo sottodirlo ad alta voce perché abbiamo oltre 210 produttori presenti con circa 400 etichette di Barbera caspita! da tutte le zone di produzione, dal Monferrato, dalle Langhe, dal Roero ma anche dalle altre province, dai coli tortonesi, dalla Lombardia, alle altre regioni d'Italia e quest'anno è un'edizione particolare edizionale perché avremo anche le Barbera che arrivano da oltreoceano dagli Stati Uniti ma veramente? C'è qualcuno che fa la Barbera oltreoceano? Davvero? Sì, sì, la Barbera un tempo era un vino molto, diciamo, non tanto valorizzato era un vino, diciamo, che lo bevevano le classi menabienti e oggi la Barbera ha fatto un notevole salto di qualità grazie ai nostri produttori, grazie alle aziende che si dedicano alla coltivazione di questo vitigno ed è uno dei vini oggi, la Barbera più conosciuta al mondo e se mi posso permettere è anche uno dei più apprezzati sono d'accordo, mi trovo completamente d'accordo io sono sul sito rossobarbera.it c'è un programma veramente fitto dal banco d'assaggio che mi piace questo nome perché mi fa pensare a banco d'assalto ma invece d'assaggio che è un po' più chic e poi non solo, nel senso che sì, si assaggiano ma ci sono anche conferenze oppure il walking tour ma anche il tango in castello tra l'altro il castello per queste notti si tingerà di rosso Rosso Barbera, dico bene? sì, sì, abbiamo illuminato allora un'edizione che ripetiamo è la quarta edizione e abbiamo di solito il castello illuminato ma nei giorni di Rosso Barbera viene illuminato a Rosso Barbera che è il colore del vitigno chiaro, tra l'altro ho visto anche appuntamenti della serie ricette Barbera oppure pasticcerie Barbera quindi anche veramente per tutti i gusti sì, lo ha citato lei rossobarbera.it ci sono tutti gli eventi di questa edizione che sarebbe davvero troppo lungo raccontare saremo a Natale ma 20-25 siamo ancora qui a parlarne e non abbiamo tutto questo tempo ma possiamo invitare tutti ad andare sul sito rossobarbera.it e ancora di più ad andare dal 3 al 6 di novembre proprio a Costiglio Ledasti grazie Sindaco Enrico Cavallero per essere stato con noi a presto grazie a lei, buona giornata GRP